E con l'anteprima calcio andiamo a presentare la giornata calcistica delle fine settimana cominciando dal campionato di Serie D. Siamo alla 22esima giornata di campionato andiamo subito a averci prima la classifica. Proponiamola con Lumezzana a quota 47 Alcione secondo posto a quota 40 e tutte le altre sono molto staccate partendo dal Conantese 35. Sembra che sia se possibile ancora un gioco o due con lo scontro diretto che arriverà fra poco. Altra classifica andiamo a vedere le squadre bergamasche dal Ciserano che ha 33 punti, la prima formazione bergamasca al quarto posto insieme a Franciacorta di Sguro 33, Bruso Porto 32, la Valesina 29 insieme al Ponte San Pietro che ha 28 poi via via tutte le altre dal Villavalle che non è in una situazione tranquilla con i suoi 25 punti il Real Calepina a 20 e troviamo anche il Breno ancora fuori dalla zona retrocessione però a ridosso e in piena zona play-out con i suoi 16 punti. Le partite domenica alle ore 14.30 sono Arconatese-Varesina, Breno-Esenzano-Darbi-Bresciano, Bruso Porto-Seregno, Caronese-Alcione, Varese-Casatese-Folgore-Caratese-Franciacorta, Lumezzana e Sona e due derbi bergamaschi quello tra Ponte San Pietro-Virtus e Ciserano e Villavalle-Calepina. Passiamo all'eccellenza B, qua siamo alla ventesima giornata di campionato con la Trezion la Invetta a quota 48 ma Pello a 43, anche qua sembra che i giochi siano a due formazioni difficile che possa rientrare Leone, comunque sempre pericolosa con i suoi 36 punti. Via via tutte le altre, andiamo a vedere le formazioni seriane con la Juveness-Pragunghese a quota 28, poi entrano in una zona difficile, purtroppo non è un bel campionato quello della Vertovese a quota 16, almeno sino a questo momento, in piena zona play-out. Trabbino-Gandino è sempre sul fondo con i suoi 10 punti in classifica. La partita del fine settimana c'è il derbi, seriano, quello tra Trabbino-Gandino e Juveness-Pragunghese Cisanese-Trevillese, Forza Costanza-San Pellegrino, Luciano Manara-Milanese, Mapello-Lemine, Scanzaro-Sciate-Alta Brianza, Trizium-Ginatese, Vertovese-Leon, turno difficile per la Vertovese in casa, Zingonia-Valcalepio. Eccellenza Girone C, questa è la classifica, qui la classifica è molto più ingarbugliata, anzi è più bella anche da vedere perché i giochi sono tanti per queste formazioni, per chi dovrà vincere il campionato, per chi potrà entrare in zona play-off e anche ovviamente per la zona di processione. Partiamo dall'unica Bergamasca in questo Girone che comanda la classifica a quota 39 insieme al Cazzago Bornato e il Caravaggio. Ospitaletto un punto quota 38, Casbrexia 37, poi Ofanenghese 34, Ciliverghe 33, Rovato 32, via via tutte le altre. Andiamo a trovare il Darfo che apre la classifica della nostra zona destra, per chi guarda ovviamente con i suoi 24 punti, Prevalle 23. Le partite sono Benizzolese, Casta e Brescia, Caravaggio, Rovato, Castiglione Rezzato, Cazzago, Soresinese, Darfo, Prevalle, Carpenero, Ciliverghe, Codogno, Ofanenghese, Soncinese, Ospitaletto, Vobarno, Luisiana. Parliamo di promozione Girone C con la Falco che la vittoria della settimana scorsa proprio sul Casazzo l'ha permesso di agganciare in vetta la classifica, la formazione della Valla Cavallini a 35 punti per entrambe le formazioni, col Torre dei Rovani che segue a quota 29 e azzano a quota 28. Poi si apre la classifica di quelle che sperano di entrare in zona playoff come a Colognese 24, a Gavarnese 23, via via tutte le altre in discesa dopo il grande inizio di campionato dell'Aurora Seriata a quota 21 e andiamo a trovare l'attualmente retrocessa che è l'Acos Treviglio a quota 8. Qua una retrocessione ricordiamo e quattro entrano nei playoff. Le partite sono Almetrezzanese, Aurora Seriata Colognese, Pasiano Falco, Civilatese, Casazza, Gavarnese, Azzano, San Paolo, Juventina Covo, Acos Treviglio e Pagazzanese con inizio alle ore 15 e 30, come del resto Torre dei Rovani, Fiorenta, gran bel incontro anche qua inizio 15 e 30. Capitolo prima categoria, siamo alla diciottesima giornata di campionato, apriamo con la testa della classifica, quella del Cenate sotto a quota 34, il Sovere si avvicina molto ormai alla vetta della classifica, al secondo posto insieme al Paladino a quota 32, il FA è 29, ma la grande sorpresa, Piancamuno 426 insieme al Gorle e al Villongo, sognano ancora di poter essere protagonisti in questo girone di prima categoria. Il Pianico, che doveva essere la grande protagonista, purtroppo sta lottando ancora per uscire dalla zona playoff con i suoi 18 punti, chiude il Città di Dalmini che sembra ormai spacciato a retrocesso con solo 4 punti. Le partite del fine settimana sono Isola Brembillese, Villongo, Mozzo, Leffe, Dalmini e Cenate sotto, Piancamuno forse la partita più interessante, la Torre Gorle, Laglio Sovere, Paladino Loreto e Zognese Pianico. Chiudiamo con la seconda categoria, Girone B, con Invetta Ranica, 40 punti, tantissimi punti di questa formazione nata da Parmigiani, con la Gandinese a quota 36, l'unica che può dare fastidio ancora alla formazione del Ranica. Albano 28, Immacolata Alzano 25, Villadonia a quota 23, leggera discesa la formazione nata da Giorgio Alberti, poi andiamo a vedere le altre formazioni, il Rovetta a quota 19, il Città di Clusone si avvicina a quota 18 e domenica c'è anche un derby seriano che fra poco andremo a vedere. Chiude il Casnigo a quota 12, qua è bellissima la zona elettrocessione e play out perché sono coinvolte tante squadre. Le partite sono Bagnatica Rovetta, il derby fra Clusone e Villadonia, Gandinese e Soligio Grassobio Casnigo, Immacolata Alzano Albino, Oratorio Stezzano Oratorio Alzanese, Ranica Brugia Porto e Tribolina Gavarno Oratorio Albino. Ecco la tombola dell'oratorio che sarà in diretta sino alle 20.35, a tutta die e tempi supplementari verranno englobati nella stessa trasmissione. Partiremo alle 20.30 circa, faremo vedere tutto quanto perché saranno parecchie le partite che andremo a esaminare, saranno una ventina di immagini con interviste dalla serie D alla seconda categoria, l'appuntamento non perdetelo sempre quello del lunedì sera sul canale 84 Antenna 2 TV con il nostro calcio dilettantistico. Ricordiamo dunque le 20.10, Antenna 2 TV, canale 84, il calcio di casa nostra.